Concas, Rolando, cerca Caramoco Sissé, ha l'impegno di girarsi, resiste, la carica egregiamente, poi ancora c'è l'azione del Perugia, Cremonesi con un controllo non riuscito, Caramoco Sissé con la Veronica in mezzo al campo, facciuti, arrivano gli applausi, lecchia bassi. Spalek, batte su Koulibaly, ancora Spalek con la sua reattività, ma perde il pallone, poi Tonali prova a subentrare, perde il contrasto, con Sissé, allora sale l'ondata Carpi, placaggio reggistico. 48.50 sul cronometro, il controllo di Sissé, porta via il pallone in qualche modo, riesce a scaricarlo su Jelenic, palla profonda di Carmine. Sul posto non solo per struttura fisica, ma proprio perché ha un grande terzo tempo. Battuto il calcio di punizione dalla Cremonese, Sissé recupera il pallone approfittando dell'errore di Mogos. Allora Calvano... ...i confronti dell'arbitro a Battista, prepara il cross Garofalo, palla che parte, Caraccelo lo allontana, Caramoco Sissé ad avventarsi sul pallone, prima di tutti lo chiude Domizzi, palla viva per Marsu... Vitale, sfida Matos, però recupera bene il pallone, eccolo Sissé. Altro contrasto con Auger. Matos, c'è campo per lui, pallone sul mancino, poi d'esterno a servire Sissé, scivola Eseric, il destro, il Sissé. Ed era il solito veretù, Crescenzi, Fossati, è difficile per il Verona, ripartire in velocità. Sissé, bravo qua a muoversi però, tra le linee, punta Pezzella, rientra anche a vedere tu. Marrone, Valcovez. Sissé. La difende bene, accelera, la lascia a Brienz, non la lascia male, pasa, Settembrini. Direzione di Sissé, Sissé contrastato da Mustacchio, ecco Sissé che cerca di difendere il pallone, Mustacchio prova a sottrarglielo, Mustacchio non riesce, la palla dall'altra parte per Sabelli. Sissé, Mustacchio, di testa va molto alto, Balcovez che può andare in combinazione con Sissé, Sissé prova l'azione di sfondamento, Sissé, Balcovez, il cross di Balcovez, la chiusura di Belmonte. Quarantesimo nel corso del primo tempo, 1-0 per i Bari. Bari che aveva sofferto molto la partenza del Perugia che però ha avuto il limite di non sapere approfittare del Perugia che davvero non riesce a far gol. Buon aiuto, aerea di rigore, buon aiuto, si difende il Bari con Sissé e riparte Sissé, grande forza fisica, guardate Sissé che ha 10-0 di origine albanese, arrivato a gennaio dopo essersi svincolato dal Kaiserslauter, giocava nella seconda divisione tedesca, questa volta il fallo è contro Sissé e quindi... Kozak, Galano, attenzione a Galano, Galano dall'altra parte c'è Sissé, quasi aerea di rigore, Sissé si accentra, Sissé cerca spazio, Galano, aerea di rigore, Galano, Galano, potrebbe tirare il cross. Jokolano, adesso c'è spazio per il Bari che ha fatto girare bene il pallone, Jokolano centralmente per Kozak che non controlla bene, attenzione a Sissé, tira col destro, palla molto oltre, Bari che riparte con Sissé sulla sinistra, la sovrapposizione di Delia, Ancora Sissé, si accentra, Sissé, Brienza, largo per Galano, Floro Flores, perdono palla, giocatori del Bari, la recupera Sissé, ecco Sissé di forza, travolge tutto e tutti, Sissé, grande azione, su di lui. Sissé, grande azione, su di lui.